Buonasera e benvenuti a un confine incerto che presentiamo nella sezione After Hours, che sapete è una sezione un po' centrica, un po' notturna del festival, nella quale tra l'altro è abbastanza difficile che ci siano film italiani. Scusate. Vi racconto, vi dirò pochissimo del film perché in qualche maniera è anche un thriller e quindi meno di racconto e meglio è. È una storia nella quale si incrociano due percorsi, due storie in realtà. Una è quella di un agente, una signora che è un agente della polizia postale e che sta facendo una indagine sulla portopedofilia online e che facendo questa indagine incappa in un'altra storia cominciata qualche anno prima. L'altra storia che si intreccia è quella di una strana coppia, una bambina e un ragazzo che vivono, vivono in un camper, principalmente parcheggiati in una foresta, che però ogni tanto si sposta anche, e vivono piuttosto serenamente all'apparenza. Le due storie si incrociano e ci portano in un percorso che è prima di tutto intimo e poi diventa ovviamente anche sociale, politico, civile. Però è prima di tutto un percorso nell'affettività e nelle varie forme di affettività, giusta o sbagliata e non si sa bene dov'è il giusto o lo sbagliato. È un film che ha moltissime zone di interrogativi, che ha moltissime zone d'ombra che non pretende di risolvere ma che ci espone in una maniera molto umana e molto affettuosa anche da un certo punto di vista. La regista ha diretto moltissimi film, soprattutto documentari, ve ne nomino un paio, per esempio Il mondo alla rovescia oppure Animali che attraversano una strada. E invito qui con me Isabella Sandri e insieme a lei il produttore Peppe Gaudino, produttore e coso di Giappone. E poi i due degli interpreti, Moise Curia e Anna Malfatti. E a questo punto lascio la parola a Isabella. Innanzitutto vorrei ringraziare Manuela Martini, proprio Animali che attraversano la strada alla Biennale di Venezia del 2000, selezionando il prodotto. Sì, sì. E poi vorrei tanto che si parlasse di Moise Curia e di Anna. Ho sbagliato la pronuncia, Curia, ok. Ma sono stati bravissimi, proprio veramente degli eroi e quindi vorrei che ci sono due parole di presentazione. Dai, faccio parlare prima te. Mi è piaciuto un sacco girare questo film con Moise Curia e Isabella Sandri e Peppe e con gli altri vari attori. Io ci tengo a dire che è un film a cui tengo molto. Uno perché c'è stato un lavoro lunghissimo su questo film, su questo personaggio e su quello che volevamo raccontare di Ricky. Io personalmente ho fatto un lavoro davvero lungo perché era un personaggio veramente lontano da quello che sono io nella vita. Quindi c'è stato un lavoro veramente minuzioso. Abbiamo avuto la fortuna di avere Anna, che è una bravissima attrice, la vedrete poi nel film, e di avere due genitori che l'hanno accompagnata e che l'hanno straordinari. E io li ringrazio perché mi hanno anche in qualche modo aiutato nell'interpretazione di questo ruolo insieme a Isabella e Peppe, che ringrazio sempre per avermi dato la possibilità di interpretare questo ruolo. Io penso di non dover dire troppo perché parleranno le immagini. No, no, anche perché è meglio non svelare troppo. Sì, quindi vi ringraziamo per essere qui e passo la parola a Peppe. No, prima parla a Peppe, no, Peppe, lo so a te dire. Il produttore incredibile, il produttore coscieneggiatore. Una cosa che posso dire è che il tema che raccontiamo è un tema che è necessario parlarne perché apparentemente, sembra distante, ma è molto vicino a noi. Stamattina abbiamo una notizia poco felice che anche in questa città è successa una cosa del genere. e quindi può sembrare un tema scomodo, ma dobbiamo fare di conto in questa realtà. Abbiamo delle eccellenze in Italia, c'è il CPO e altri organismi che si occupano di questo e ci proteggono, ma dobbiamo parlarne perché la trasmissione di queste informazioni aiuta chiunque, genitore o non genitore, ad avere un occhio di riguardo verso chi è il nostro futuro, chi è la nostra provvidenza. Quindi è meglio preservare questa dimensione sociale. E adesso Isabella. Io volevo dire solo una piccolissima cosa che io ho veramente fatto del mio meglio per riuscire a presentare questo tema, ce l'abbiamo messa tutta, ce l'ho messa tutta e spero che qualcosa vi arrivi di questo lavoro. E volevo ringraziare, sono qui presenti alla proiezione, c'è il gruppo musicale, hanno fatto la colonna sonora, ci hanno lavorato degli anni per il compositore Sergio De Vito, gli Epsilon Indi si chiama così il gruppo, Alex Romagnoli, Sergio De Vito ha anche realizzato tutti gli effetti visivi e poi abbiamo qui in sala Davide Grotta che è l'aiutoregista che è una colonna portante, e poi l'organizzatore generale Roberto Gabbacorta, qui presente, e poi volevo ringraziare anche i commissari in capo, dottoressa Sara Pistilli, portavoce della Questura di Torino, il dottor Francesco Severio Bacco del compartimento della Polizia Costale delle Comunicazioni di Torino, perché gli ringrazio, perché ci hanno veramente aiutato tantissimo, sia nella fase di scrittura e di indagini, ci hanno permesso di lavorare, di vedere come lavorano gli agenti sotto copertura e ci hanno permesso addirittura di girare nelle location vere, quelle che vedrete sono veramente, è veramente la sede del Centro Nazionale Contrasto, pedofilia online, sono veramente aperte le porte. E poi anche Save the Children che ci ha supportato, ha aiutato già dall'inizio e ci ha permesso appunto di avere non solo i dati, ma anche gli incontri con gli psicologi che lavorano da sempre su questi temi. Ringrazio moltissimo Emanuele di essere qui, sono molto felice che ci sia l'occasione, il cinema anche, la produzione, allora chi ha prodotto questo progetto si dall'inizio che è stata lei in cinema, nello sviluppo della sceneggiatura e anche la film commission dell'Alto Adige, ma veramente era un tema difficilissimo, che era un terreno molto scivoloso e tutti volevano, cioè è stato difficile trovare i soldi, è stato difficile, sono brutti anni, abbiamo avuto però il sostegno della Germania, di un confruttore tedesco, di Rimasio, abbiamo poi alla fine raccordo tantissimo nel tempo e tutti erano motivati perché volevano che questo film si facesse. C'è successo di tutto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo qua, grazie. Grazie, volevo aggiungere solo una cosa, è un terreno scivoloso e alla fine ce l'hanno fatta anche perché Isabella è riuscita a non fare un film che è un pamphlet, un manifesto, è riuscita a fare un film che veramente racconta delle storie di dentro e non è il manifesto politico, è molto intrigante. Grazie. Grazie a voi. Dopo sì, se volete fare domande di qualunque tipo, noi ci siamo dopo. Ok, va bene, grazie a tutti e buon divertimento. Grazie. 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 Grazie.